Quattro rumeni sono stati denunciati dai poliziotti della sezione volanti per il reato di furto aggravato in concorso in alcuni supermercati del capoluogo. Gli agenti infatti a seguito della segnalazione di un altro poliziotto libero dal servizio, insospettito dal fare circospetto degli uomini, intervenivano in Viale Sicilia. I quattro sospetti venivano dunque sottoposti a perquisizione personale stesa all'autovettura BMW, sulla quale i poliziotti rinvenivano, occultati nel cofano posteriore, diversi generi alimentari, tra cui sette forme di parmigiano reggiano e grana padano, cinque bottiglie di champagne, 19 di whisky di importanti marche, tre di grappa, varie confezioni di caffè, latte, pasta e altri prodotti per un valore commerciale complessivo di circa 2000 euro. Inoltre denunciati sotto gli indomenti indossavano costumi tipo body utilizzati per meglio occultare la refurtiva trafugata. Gli accertamenti successivi stabilivano che i furti erano stati perpetrati in due supermercati cittadini, cui i responsabili hanno successivamente riconosciuto la merce sottratta.